Ben ritrovati da Tarabuso su questo nuovo video Allora, non so se molti di voi conosceranno ma penso di si Anche perchè vengono streamati di continuo sostanzialmente Quindi chi per caso è passato in una live di qualche italiano l'ha visti per forza Avete presente H1Z1, Counter Strike, PlayerUnknown Beh, questo diciamo che potrebbe essere simile nel gameplay Ma porta il livello del gioco una spanna sopra tutti Shotgun Farmers praticamente è una sottospecie di Counter Strike Semplice, siamo dei contadini Già, già è bellissimo ma non perchè siamo dei contadini o qualcosa contro i contadini Ma è bellissimo perchè gli è venuto in mente l'idea di fare un gioco Dove ci sono due squadre che si devono massacrare Tanto, guarda, cioè vogliamo parlare un attimo della personalizzazione? Eh, così, così mi sembra che è anche coi baffi Ma anche un po' di barba quasi quasi ci sta bene Però nero, no viola Cioè, quindi queste due squadre si affronteranno in campagna Lo vedete benissimo già dall'immagine sottofondo del menu iniziale Ah, c'è pure la voce Attenzione E le armi quale sono? E qui è veramente la chicca più chiccosa di questo gioco Allora, come vedete c'è questo shotgun in mano al nostro personaggio Che ricorda un po' il mais Ebbene sì Ora facciamo pratica così vedrete proprio su... In pratica come funziona questo gioco Le armi sono per ora quattro Non lo so, penso le implementeranno Il primo che appunto, come dicevo, ricorda un po' una pannocchia di mais È perché è preso dal mais Quindi noi, fra l'altro, non ci sono munizioni a giro Dobbiamo raccogliere i vegetali Quindi io posso anche sparare Aspettare E da qui nascerà una piantina Vedete infatti qui tutti gli spari della gente Che poi quando andrò a prendere mi ridarà le munizioni per la mia arma Attenzione, mi hanno ammazzato i bot Quanto sono scarso Quindi la prima arma è questa qua Quell'altra non mi riesci a trovarle tanto facilmente Ma sono una figata Ah, quando finiamo colpi, fra l'altro, abbiamo il badile Quindi andiamo avanti a badilate Ma non è proprio una gran cosa Eh? Dove? Vabbè Sto cercando di spiegare il gioco Bot, lasciatemi in pace Allora, intanto La mappa non è tanto vasta Ecco, però a giro ovviamente ci sono degli oggetti utili In questo caso delle pozioni per ora Ecco qua il mais Prendiamo il mais e riecco qua il nostro fucile a pompa Poi ci sarà la carota La carota trasformerà Eh, o meglio, ci darà Eh, un'arma che è praticamente un lanciarazzi Ed è bellissima questa cosa Ci sarà il carciofo E il carciofo invece ci darà un Un fucile da cecchino Mentre i pi... Eh, porca miseria I piselli no, erano lì Porca miseria Dovano andare a prendere Così vi faccio vedere pure quello Eh, i piselli I pisellini I baccello So come chiamarli Cioè, pisellini Insomma, quelli lì Danno invece una pistola Eh, con quanta violenza mi hai ucciso Ma quanto sei bravo Bot Stiamo perdendo fra l'altro No, stiamo vincendo perlomeno Nonostante faccio schifo C'è qualcosa qua su? Andiamo un po' Niente Perfetto Via, non mi rompete le scatole Voglio andare a prendere la pistoletta Eccolo Ecco qua I pisellini che ci danno la pistoletta Che è stracomoda Perché comunque uno riesce a mirare Un pochino più da lontano Rispetto al fucile a pompa Poi quell'altri Difficilmente riesco a trovarli Eh Ma era lì accanto Non me ne so accorto Oh, chi? Che cosa? Ma dove? Ma perché mi fai? Eccola Yeee Il bazooka Là È bellissima È bellissima Non c'è il tasto R per ricaricare Il tasto R Dà la botta con l'arma Quindi non possiamo accumulare Tanti Eh, porca miseria Non avete ammazzato prima Non possiamo accumulare tanti proiettili Bisogna via via Riprenderli E questa cosa un po' è triste Però un po' Ripeto È una figata Il tutto è una figata Poi un'altra cosa canza Che a seconda di quanto è grossa La piantina Sostanzialmente Da quanto è cresciuta Ci darà un numero di proiettili Diverso Quando è matura Quindi è più grossa Ci darà un numero maggiore Di proiettili Mentre quando ancora è piccola Che sta crescendo Tra virgolette Offrirà meno Attenzione Stavo rischiando Che se si girava Mi ammazzava Stranamente Anche perché il gioco Sostanzialmente Poi alla fine È una cagata Non è niente di che Divertente Per carità È curiosa L'idea È sicuramente Diciamo originale Però Per ora Non è niente di che Certo Nirli Access Sicuramente Verrà migliorato pure Ma insomma Non so quanto può essere Migliorato questo gioco Però sta Sta collezionando Tante Recensioni positive Su Steam Tante Per ora sono una quarantina Da quando sto facendo questo video Praticamente Quasi tutte positive Quindi c'è Dallate buon segno Ma è fluido Ora Vabbè Io sto giocando contro bot Ora poi proveremo Una partita Contro altre persone Player veri Volevo Iniziare qui Per avere un po' più Calma E far vedere il gioco Ma a quanto pare sono assatanati Questi bot Come non mai Vieni qua Oh Ah ok Non ci sono Quick play Ci sono Partite O no Non si gioca nessuno A questo gioco Oh E qui cambia anche mappa Qui è anche più grande Attenzione Attenzione Intanto voglio sprecare Un paio di proiettili Per Ah waiting for other player Ah ok C'è scritto quanti siamo No C'è il mio nome Ma E basta Se è così Porca miseria Porca miseria Perfetto Perfetto Almeno sono contento Avele provate tutti La sparacca Abbastanza Velocemente Niente Decisamente Non ci sono Altri player Ma proprio Mi dispiace Mi dispiace Non potervi far vedere Una partita Online Ma il gioco Non se lo sta cagando Nessuno Però ripeto Quei pochi Che l'hanno preso L'hanno recensito Positivamente E è già qualcosa Quindi Ricapitolando Il titolo È immediato Si capisce Fin da subito Che è Veloce Rapido Poco complicato Ci sono solo due tasti Un po' scansonato Un po' Ilare Diciamo Un pochino più Stupido Se vogliamo Meno serioso Rispetto ad altri FPS a squadre Costerà 10 euro Quindi Magari uno Sotto sconto Ci potrebbe fare Anche un pensierino Perché Alla fine Non è nemmeno male Graficamente Diciamo Via Dai Lo stile Grafico E la grafica Renda la causa Di un FPS Un pochino più Burlone Diciamo così Il fatto Però Di essere Dei contadini E di prendere Come armi Delle Colture È spettacolare Quindi I piselli Per la pistola Il L'asparago Per il fucile A cecchino Il mais Per il fucile A pompa La carota Per il lanciarazzi Spero poi Che ne metteranno Altri Perché L'idea Secondo me È veramente Il cavallo Di battaglia Di questo titolo Che è veramente Una genialata Secondo me Il video è corto Perché purtroppo Non c'è nemmeno Tanto da dire Poi appunto Non partono Le partite Sicuramente Da tenere Sott'occhio Se avete Un gruppo Di amici Meglio Se siete Da soli Beh Sicuramente Ora è da aspettare Ma alla grande Perché appunto Non ci sono Giocatori Ma nemmeno A pagarli Penso Quanto è bello Il mio personaggio E quindi Niente Mentre io mi vado A allenare In attesa Che il gioco Forse prenderà piede O forse Rimarrà così In eterno Non lo so Però se vi interessa Tanto trovate Il link In descrizione Dateci un occhio Che potrebbe essere Un bel passatempo Divertente Con questo è tutto E ci vediamo In un prossimo video Sul canale Alla prossima Ciao Oh quanti